la parola di oggi è marrano con questo epiteto ingiurioso gli spagnoli del medioevo si rivolgevano in modo altezzoso ai mori e agli ebrei da poco convertiti al cristianesimo e ai loro discendenti il termine vale derivi dallo spagnolo marrano che vuol dire porco il termine a sua volta deriva probabilmente dall'arabo maharam che significa cosa proibita e con il termine haram vietato si indicava tra l'altro la carne di maiale che ebrei e musulmani non potevano mangiare il nome ufficiale di questi mori ed ebrei era in realtà da poco convertiti e in realtà conversos o cristianos nuevos e un decreto del re di castiglia vietava già nel 1380 di usare il termine ingiurioso di marrano la parola però originariamente limitata a quelli che nonostante una conversione formale si erano mantenuti secretamente fedeli alla religione originaria fu molto usata nei secoli successivi durante le persecuzioni di cui furono vittime gli ebrei e a causa del diffuso antisemitismo e del sospetto nei confronti dei convertiti il termine marrano non ha mai smesso di essere popolare inoltre i marrani più benestanti spesso imparentati con famiglie di nobili impoveriti diventano molto influenti grazie alla loro ricchezza e alla loro educazione e vennero chiamati a importanti incarichi nel governo nell'università e anche nelle alte cariche ecclesiastiche aumentando in questo modo l'invidia e l'odio della popolazione che peraltro veniva incitata dal clero contro di loro in quanto questi erano ritenuti cristiani non credenti e ipocriti i marrani avevano quindi nell'immaginario popolare la connotazione della viltà della proditorietà il marrano è traditore spergiuro e felice frago intrigante ipocrita un caino ingannatore e sicofante il termine è quindi passato a indicare in modo generico un uomo falso infido cattivo un traditore e poi per estensione talvolta anche in modo scherzoso una persona rozza villana e tracotante oggi il termine non ha più ragione di esistere e infatti anche il suo uso ingiurioso è venuto meno le esclamazioni come ville marrano si trovano solo nella letteratura cavalleresca dei secoli passati proprio però perché la parola è rimasta nella terminologia storica mi è sembrato interessante approfondirne l'origine e il significato arrivederci a presto con una nuova parola